la stai mangiando tutti ti posso dire una cosa? l'uccelli morono di fame grazie mamma vai un applauso hai tanta fame? bravo sorridi allora come mai state giocando? va bene che tu giochi col telefono e Nathan gioca col tablet? si va bene ho già fatto un pochino il bravo ma un pochino il monello stai facendo? tu guardando la tua ma stai facendo il bravo o il monello? io sto facendo aiuto aiuto no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.